Io sono arrivato a pubblicare un autovideo su YouTube nel quale io non solo invitavo ad un confronto invitavo a dimostrarmi che non era questa la mia risposta alla prima domanda ed ho montato, ho commentato con tutti quanti il servizio dando domanda e risposta mie e reali l'ho messo su YouTube immediatamente dal titolo La crisi non esiste dopo due ore esatte, che aveva totalizzato quasi 400 contatti, in due ore mi è stato bloccato il video su YouTube Questo mi fa capire la dittatura mediatica